Faso non lo so te, ma a me questo buio mi ispira un pochino. Ho saputo che nel CD-ROM di Radio DJ ci sono anche alcune scene piccanti. Sì, ma tieni a posto le mani, capisco che ti ispiri. Ma vabbè, però, aspetta, provo un attimo a cliccare qui. No, guarda, se fai così, fai prima di togliere le scarpe e fai direttamente... Cosa state facendo? Cosa avete toccato? Ogni volta ci stiamo giocando? Avevo detto di non toccare niente, che avevamo toccato niente. Stavamo giocando a ruba mazzetto. E comunque, come vedi, avevo rubato una mazza. Avevo settato l'unità mobile con il system folder e tutte le unità del CD-ROM. Qui è tutto buio. Intanto se avete lo schermo buio perché non sapete fare niente, dovete premere questo tasto qui. La cartella! La solita cartella! Eppure il primo giorno di scuola è passato da parecchio tempo. Lino, ti avevo detto di non esagerare, con l'umanismo è pericolosissimo! Radio DJ One Nation, One Station